Un percorso di stabilizzazione per i lavori a tempo determinato dell'Accord Fenix, l'azienda da poco insediatasi nel polo elettronico. È stato sottoscritto un delicato accordo sindacale all'interno dell'Accord Fenix a darne notizia e il Vira De Santis, segretario generale FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Nell'ambito di una complicata discussione sull'assunzione di personale, la FIOM ha ritenuto importante impegnare l'azienda all'interno di un accordo che traccia un preciso percorso di stabilizzazione per i lavoratori assunti a tempo determinato. Pur constatando la difficoltà dichiarata dalla stessa azienda di portare avanti in questa fase quel processo di recupero dei lavoratori previsto da un ormai datato accordo sottoscritto in sede istituzionale, la FIOM provinciale ha ritenuto importante mettere in piedi precisi paletti alle assunzioni a tempo determinato la cui pratica rischiava di assumere derive preoccupanti. Di fronte alle criticità che ancora incombono sul decollo dell'Accord Fenix, la FIOM non intende abbassare la guardia, scrive la De Santis, e per questo continuerà a seguire con attenzione ogni evoluzione che possa avere impatto sulla condizione dei lavoratori e dare il suo contributo per migliorarla.